CGL e Cisle e Will Campania hanno inviato al governatore della Campania De Luca una serie di suggerimenti per come mettere in sicurezza la fase 2, quella dell'inizio della riapertura di alcune attività economiche in Italia. I sindacati si dicono svolto dalla regione durante la fase 1, quella del contenimento del contagio, che sembra aver dato buoni frutti, e hanno sottolineato anche il loro apprezzamento per il coinvolgimento delle parti sociali durante la gestione. La fase 2 hanno dichiarato i segretari, alla quale tutte le forze sociali ed economiche sono chiamate un contributo, deve tenere conto del protocollo regionale, che insieme a quello nazionale dovranno rappresentare l'unico punto di riferimento per la regolamentazione della transizione senza sovrapposizioni istituzionali. Fase fondamentale, dicono, quella da gestire in maniera ordinata e strutturata per non disperdere quanto di buono fatto finora in termini di contenimento del contagio. Per i sindacati occorre intervenire su alcuni punti fondamentali, sanità, prevenzione e medicina territoriale, accordo regionale per rendere più semplice l'accesso alla liquidità per le aziende, investimenti e risorse economiche, a cominciare dai settori che sostengono in maniera prevalente il PIL della Campania, i trasporti e l'utilizzo del servizio e relativi mezzi da utilizzare, il conseguente incremento delle risorse umanitarie e strumentali a supporto. I rappresentanti dei lavoratori sottolineano che vanno previsti interventi immediati orientati alla fiscalità di vantaggio attraverso l'azzeramento delle addizionali regionali per i contribuenti rientranti nei primi due scaioni di reddito e dell'IRAP per le piccole e medie imprese, nonché il monitoraggio e controllo dei prezzi, ma inoltre è previsto l'assoluto divieto di licenziamenti da parte delle aziende, tanto di quelle in attività che delle imprese che riapriranno nella fase 2. CGL e Cisleville chiedono infine una regia da parte della Giunta regionale che dovrà farsi garante di tutto il processo, coadiuvata in questa dedicata funzione da prefetture, associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali, attraverso la costituzione di un comitato regionale permanente sull'emergenza, con compiti di monitoraggio sull'intero territorio.